Il cielo e il tempo non ci assiste molto in questi giorni perché fa molto freddo ma cerchiamo comunque di ottimizzare per gli allenamenti e quindi faremo sempre il nostro meglio. Si chiudono con un quinto posto le Olimpiadi a Parigi per la retina Martina Bartolomei che è gareggiato nella competizione mista di skit assieme a Tamarro Cassandro. Si tratta di una specialità di tiro al piattello che prevede otto postazioni di sparo ed un solo colpo a disposizione per ogni bersaglio lanciato in aria. Lo skit azzurro può comunque festeggiare. A firmare l'impresa sono stati infatti Diana Bacosi e Gabriele Rossetti che hanno battuto gli Stati Uniti in finale mettendosi al collo l'oro olimpico nello skit a squadre miste. Quinto posto invece per la coppia Bartolomei Cassandro che ha realizzato un punteggio di 144 su 150, punteggio che non è stato sufficiente per entrare nella lizza dei primi quattro e disputare il match per la medaglia di bronzo. Il bersaglio è stato mancato alla fine però per un soffio. Ne sono stati infatti sufficienti 146 a classificare Cine d'India per la sfida finale. Nello specifico la tiratrice a retina ha fatto registrare 24 su 25 alla prima serie e 23 su 25 alla seconda ed infine 23 su 25 alla terza. Un risultato che arriva a poche ore dal diciannovesimo posto ottenuto dalla tiratrice a retina. Bartina Bartolomei 33enne è nata da Rezzo e da anni risiede alla Terina là dove si allena e dove ha cominciato a sparare i primi tiri al piattello e proprio dove tutto il team azzurro si è allenato in vista delle Olimpiadi.